Benvenuti nel nostro sito produttivo di Cremona. Siamo su un'area di proprietà dell'acciaieria Arvedi, operanti in Cremona. Abbiamo il compito di effettuare la lavorazione dei materiali Inertex e Calcetech. Due anni e mezzo fa, dopo un attento studio, abbiamo deciso di acquistare Itachi. Le macchine danno delle grossissime soddisfazioni, sono molto veloci e reattive. Apprezziamo molto la forza di strappo, la resa della macchina nelle operazioni molto difficoltose, soprattutto nel forno dove la macchina viene sollecitata moltissimo. Gli operatori a GECO lavorano continui sulle pali Itachi e sono contenti e non si stancano. I risultati ottenuti sono stati incoraggianti e per questo intendiamo acquistare altri macchinari Itachi, tra cui pale e scavatori, soprattutto pale, che stanno avendo ottimi risultati. Grazie. 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 Grazie.